Ho usato spesso la parola miracolo, anche se non mi piace tanto, perché in realtà qui si tratta della loro capacità di migliorare e di sbattersi come stanno facendo tutta la settimana e di rispettare il piano gara alla perfezione. Questa è una partita dove all'andata avevamo perso di 25 a rimbalzo, oggi abbiamo vinto di 13. Loro sono una squadra rognosissima, ostica, che non muore mai, che per 40 minuti gioca lo stesso tipo di polacanestro come dei martelli. Siamo comunque stati bravi ad avere soltanto quel piccolo calo verso la fine della partita, quando abbiamo smesso di tenerli uno contro uno difensivi, nel complesso una partita che pesa. Quando abbiamo tanto tempo per prepararla sappiamo che è un nostro punto di forza, l'aspetto della preparazione della gara, perché le ragazze seguono tantissimo questa cosa. Sono veramente dentro, devo ringraziare anche Gabriele Pirola, che in questo senso ci sta facendo un lavoro quasi da mental coach proprio su questa cosa del piano gara e degli obiettivi. Infatti sta indubbiamente pagando, oggi si è visto quello che avevamo preparato, non abbiamo giocato una buona partita, assolutamente. Però abbiamo giocato una partita precisa su quello che volevamo fare. Se non ci sono novità nel calendario, che è un calendario da qui in poi veramente, non so come definirlo, però... A livello NBA? Sì, sì, assolutamente. Sì, e poi è proprio casuale, quasi, a random, nel senso che abbiamo 500 recuperi, noi e gli altri non so quando giocheremo queste partite e non avremo tutto quel tempo per preparare. Invece adesso c'è un altro buco inspiegabile di due settimane, ce la faremo passare in qualche modo, faremo delle amichevoli, cerchiamo di tenere lì il gruppo, perché in un momento in cui siamo in tiro non possiamo giocare, perché sono centomila motivi per non giocare le partite. Quindi, amen. Per una partita per noi, we prepared for, we didn't have a game per due, tre settimane, allora abbiamo troppo tempo, and vinciamo. And it's good to have a lot of rest too with our team, and, you know, we have Spraya who we've got to have her back ever since, you know, she wasn't here the first time we played Moncalieri, and Lisa, I mean, every one of our teammates came through today, so it was really important. Quindi, come dice Michi, che vuole anche attribuire alle altre i propri meriti, abbiamo avuto un'ottima Lisa e Spraya nel primo tempo, e tu... E' sempre in Mati, davvero, mi è certo, sempre in Mati. Ma siamo abituati a Matilde. Grazie. Grazie.